Musica Prosegue il lavoro degli operatori di Civitavecchia Servizi Pubblici che stanno realizzando gli installi dei banchi del mercato. Intanto si torna a parlare del progetto esecutivo di restyling. Musica Nella classifica rubrica del sabato in alto nel nostro ascensore virtuale salgono i dipendenti dell'autority alle prese con i 5 giorni di sciopero conclusi ieri mentre il down va all'Enel. Musica L'Unione Ambulatoria e Poliambulatoria ha organizzato una manifestazione al Teatro Brancaccio di Roma per denunciare le conseguenze derivanti dall'applicazione del nuovo nomenclatore. Musica La Lampada Blu lancia un nuovo progetto che ha come finalità la promozione del benessere dell'anziano con laboratori, con lavori condivisi, col sostegno della fondazione Kariciv. Musica Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Prosegue l'attività di realizzazione della segnaletica orizzontale relativa agli stali del mercato. Anche ieri la squadra di CSP, incaricata sotto la sorveglianza degli uffici dei lavori pubblici e del commercio, hanno continuato a disegnare i perimetri dei banchi. L'obiettivo è quello di regolamentare la situazione che si vive a piazza Regina Margherita, permettendo così ai vigili urbani di effettuare i controlli. Intanto Palazzo del Pincio ha ricevuto il progetto esecutivo del restyling del mercato. Il servizio È proseguito anche nel pomeriggio di ieri il lavoro degli operatori di Civita Vecchia Servizi Pubblici, che su indicazione degli uffici dei lavori pubblici e del commercio, stanno realizzando gli stalli dei banchi del mercato. Si tratta di un'attività messa in campo per dare modo ai vigili urbani di effettuare i necessari controlli delle licenze dei commercianti, evitando così situazioni di anarchia. Così la squadra di CSP, che si occupa della segnaletica sotto la guida dei tecnici di Palazzo del Pincio, ha proseguito le attività iniziate già da qualche giorno, continuando a disegnare a terra le perimetrazioni dei banchi con tanto di numerazione interna. Ieri è stata la volta di Via Padre Alberto Guglielmotti, ma i stalli sono già stati ultimati in Via San Leonardo e sotto il tendone di Piazza Regina Margherita. Il lavoro non si è ancora concluso e proseguirà anche nei prossimi giorni, ovviamente ad attività chiuse. Con il disegno a terra degli stalli, afferma Perello, proviamo a mettere ordine ad alcuni aspetti difficili da verificare anche per gli agenti della polizia locale, evitando così che il mercato si trasformi in un far west dove ognuno fa come vuole. Parallelamente portiamo avanti il discorso relativo al progetto di restyling. A tal proposito, con qualche giorno di anticipo rispetto alla deadline imposta da Palazzo del Pincio al 31 marzo, lo studio di progettazione incaricato ha consegnato al comune il progetto esecutivo di riqualificazione. Essendo un progetto importante, dal valore di circa 3 milioni di euro e che ha portato con sé un grande dibattito in città, il comune vuole andarci con i piedi di piombo. Per questo, al fine di evitare brutte sorprese, ha deciso di non mandarlo immediatamente a bando, ma di farlo visionare ad una società di consulenza che si occupa di verifiche sui progetti. Entro 30 giorni al massimo arriverà il risponso. Dopodiché, qualora la risposta dovesse essere positiva, si procederà con la gara per l'assegnazione dei lavori, che almeno sulla carta dovrebbero dare un nuovo volto a Piazza Regina Margherita e alla vicina, Piazza 24 Mangio. A seguito degli articoli in cui si informa che la procura di Civitavecchia ha iscritto sul registro degli indagati un parroco della diocesi di Civitavecchia Tarquinia, La curia Vescovile, esprimendo piena fiducia nell'operato della magistratura, auspica che quanto prima la vicenda si risolva con le massime garanzie per le parti in causa. L'accertamento della veridicità degli eventuali fatti spiegano dalla cura Vescovile compito dell'autorità giudiziaria sicuramente si baserà su lavori di prova ben più complessi rispetto alle ricostruzioni fatte dalla stampa locale. La curia precisa inoltre che i supposti a debiti giudiziari attribuiti al parroco non siano da ricondurre in alcun modo agli incarichi da questi ricoperti a livello diocesano. Con l'arrivo della primavera il comitato Town de Revelle esprime preoccupazione per l'inizio della stagione 2024 della Movida ed ha inviato una nota al protocollo del comune chiedendo chiarimenti sui provvedimenti adottati per garantire rispetto della legalità e l'accessibilità del lungomale da parte di tutti. Il comitato suggerisce alcune misure preventive per evitare degli episodi di malcostume, disturbo della quiete pubblica, atti vandalici e violenze su persone che purtroppo si registrano danni al pirgo durante le ore notturne. La situazione attuale è motivo di imbarazzo, affermano dal comitato, basta passeggiare lungo il lungomare che dovrebbe essere il vanto della città per notare aiuole trascurate con erba alta e siepi incolte che assomigliano più a una giungla verticale e sono pieni di rifiuto di ogni tipo, incluse gli escrementi dei cani. E spunta un nuovo candidato a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative a Civitavecchia dall'8 al 9 giugno prossimi, stiamo parlando di Christian Bufi, candidato della lista Risorgimento Socialista, una città nuova all'insegna della qualità della vita, della solidarietà e della giustizia sociale. E' quella auspicata da Bufi che ha come slogan la frase «Tutti meritiamo il meglio». E' nuovo appuntamento con la rubrica Up and Down, ovvero il chi sale e il chi scende, tra i protagonisti chiaramente personaggi pubblici della settimana che sta terminando. Questo sabato in alto nel nostro ascensore virtuale salgono i dipendenti dell'autority alle prese con i 5 giorni di sciopero, conclusi ieri, mentre il down va all'Enel. Sentiamo. Up, i dipendenti dell'autority. 5 giorni consecutivi di sciopero e tanta roba, come direbbe qualcuno, dimostrano una determinazione forte a difesa del proprio livello salariale. Qualcuno ironizzato ironizzerà anche ora a fronte di quanto si è detto e scritto sugli stipendi degli inquilini di Molo Vespucci. La realtà però parla di un più che discreto numero di peones, praticamente gli scioperanti, che hanno un salario sicuramente discreto ma non eclatante e di altri dirigenti, funzionari e qualcun altro che, potendo beneficiare di lautissimi assegni al personam, appartengono alla casta degli unti dal signore. Down, l'Enel. È vero, sicuramente la maggior parte delle responsabilità sono di ordine politico, anche perché Enel è una società per azioni, ma una discreta parte di queste è ancora nelle mani dello Stato. Però francamente non è piacevole l'atteggiamento tenuto dai suoi rappresentanti presenti ai diversi tavoli di discussione del post carbone. Certo, l'azienda ha sicuramente difficoltà di ordine finanziario e questo lo hanno capito anche i sassi, ma una realtà come Cività Vecchia, che per decenni ha rappresentato l'immagine di Enel in Italia e non solo, non può essere considerata al pari di altre dal minor valore storico e umano. Si è tenuto mercoledì scorso al Teatro Brancaccio di Roma un importante incontro sul tema della sanità. L'Unione Ambulatori e Poliambulatori, sigla che raccoglie le più rappresentative associazioni imprenditoriali, privati e professionisti, hanno organizzato una manifestazione per denunciare le drammatiche conseguenze derivanti dall'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale. Sentiamo. Oggi c'è stata una risposta a livello nazionale, ci sono persone che sono partite all'alba dalla Calabria, ieri si erano presi gli aerei dalla Sicilia. Diciamo che l'Italia è arrabbiata, perché la messa in atto di questo nomenclatore, che non colpisce solo le strutture private autorizzate e convenzionate, che erogano realmente un servizio pubblico, che erogano gli ospedali, ma colpisce anche gli ospedali. Di conseguenza, se un ospedale è in piano di rientro, quanto ci mettiamo a risanarlo noi italiani? Perché gli ospedali li risaniamo noi italiani, ma i centri privati? Allora, o volevate far fallire un po' di centri, ma un nomenclatore vecchio di 12 anni non si può utilizzare. Quindi io sono sicura che ragioneranno su questo, salvare più di 36 mila posti di lavoro e soprattutto garantire una sanità di qualità al nostro paese. Ne ne ha veramente bisogno. Si è tenuta a Roma la presentazione del cammino di Asekura e dei martiri giapponesi. È un percorso da Civitavecchia a Roma sulle orme del primo ambasciatore giapponese giunto in Europa nel 1615, il samurai Tsunenaga Asekura Rukwemon. Il cammino che ha ricevuto il sossegno spirituale e la benedizione di Monsignor Gianrico Ruzza si candida ad essere uno dei principali accessi ai piedi della capitale in occasione del giubileo della Chiesa Cattolica del 2025. Cospicua la partecipazione di amministratori locali, esperti in cammini, guide ambientali, escursionisti e pellegrini che hanno affollato la sala dell'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto. Presente all'iniziativa anche l'assessore al turismo Simona Galizia. I fondi raccolti si punta alla cifra di 5 mila euro, saranno interamente utilizzati per la realizzazione e il posizionamento della segnaletica lungo il percorso. La Lampada Blu lancia un nuovo progetto che ha come finalità la promozione del benessere dell'anziano. Si parla di laboratori con lavori condivisi ad un incontro a settimana che però, visto il successo, sarà intensificato fino ad arrivare a tre appuntamenti settimanali. Il progetto vede la collaborazione anche di altre associazioni come il Circolo Arci di San Gordiano e Solidarietà Ambiente e permette la valorizzazione dell'ambiente, il riciclo e soprattutto di combattere la solitudine. Sentiamo. Parliamo delle tante attività molto importanti che svolgete. Ci spiegate un po' di che cosa si occupa la vostra associazione? Si occupa soprattutto di laboratori rivolti ad anziani, di attività manuali creative. anche motorie. Motorie. E motorie. E motorie, come si si si, attività motorie, attività creative e con la produzione di creazioni solidali. Ecco qua, soprattutto a cura di volontari. È importante già la presidente stessa, Viviana. Niente, io diceva quello, sono nata proprio volontaria da oltre 30 anni. Comunque, passando da un, non da un posto all'altro perché uno mi faceva scomodo e un altro no, ma c'è stata una piccola interruzione nella mia vita e poi dopo sono passata a. E passando a, l'importanza del volontariato è stato sempre presente. A un certo momento si è sentita l'esigenza anche degli anziani e è nata la Lampada Blu. La Lampada Blu, questo progetto appunto di associare i giovani ai grandi e dargli anche noi qualche cosa. La finalità quindi è l'aumento del benessere dell'anziano, ma soprattutto perseguendo gli obiettivi che sono la diminuzione della solitudine, il superamento della solitudine e l'attivazione proprio del rendersi utili. Questo sia per se stessi, ma soprattutto anche poi per essere memoria anche per gli altri religioni e imparare dalle loro saggezze e delle loro competenze, che sono tante, sono preziosi. Quindi obiettivi importanti questi della Lampada Blu e c'è ovviamente il sostegno della fondazione. Un progetto a tutto campo abbiamo sentito, un progetto che va dallo sviluppo delle creatività al riciclo, quindi che fa bene anche all'ambiente, ma soprattutto il rapporto tra anziani e giovani che è di aiuto a entrambe le categorie, perché gli anziani possono dare molto ai giovani con la loro esperienza, i giovani possono trarre vantaggio da quello che gli anziani dicono loro. La cosa molto bella che mi ha colpito è anche il telefono amico. Infatti all'interno dell'associazione è iniziato, come ci hanno raccontato, un rapporto con gli anziani che potevano parlare, non potendosi muovere da casa, con qualcuno. E questo secondo me è un punto di forza di questa associazione che deve essere continuato, perché non siamo più sotto Covid, ma purtroppo la solitudine dell'anziano esiste ancora. Ed ora passiamo ad una segnalazione che ci arriva dall'angolo tra Viale Etruria e Via Giacomo Matteotti. Una nostra lettrice e telespettatrice ci ha contattato per riferirci del fatto che vengono abbandonati sacchetti neri ogni mattina. Come si vede dalle foto inviate, si notano cartoni di pizza, quindi probabilmente potrebbero essere stati inquilini di zona incivili. Tuttavia non sappiamo cosa ci sia dentro, spiega la cittadina, e non è giusto che gli operatori tocchino materiali di dubbia provenienza. Visto che nessuno dice nulla, è diventata un'abitudine. Io passo tutti i giorni lì alle 6.45 e sono presenti. Basterebbe controllare la zona nelle ore precedenti. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. Ed ora passiamo ad un'altra segnalazione che ci arriva da Sangordiano. Una nostra lettrice e telespettatrice ci ha contattato per parlarci della situazione che si registra in Via delle Azalee. Come si vede dalle foto che ci sono state inviate, davanti alla tabaccheria c'è una perdita idrica. La cittadina riferisce di aver segnalato la situazione da due settimane, ma senza che nessuno sia intervenuto per risolvere la questione. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. Ed ora passiamo ad un'altra segnalazione che ci arriva da un papà che stava passeggiando con la figlia al forte Michelangelo. Come si vede dalle foto che ci sono state inviate, un tombino è praticamente aperto e questo può causare pericoli soprattutto per i bambini. Per poco mia figlia non ci cade dentro con il monopattino. Afferma il cittadino, non capisco cosa si stia aspettando per aggiustare questo tombino. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma restate con noi perché a breve torneremo per le notizie sportive. A tra poco. Buonasera e ben trovati. Si apriamo con il pugilato, una sconfitta clamorosa. Michael Magnesi ha perso la cintura mondiale silver WBC dei pesi superpiuma, cedendo per KO tecnico a 25 secondi dalla conclusione dell'incontro con il giapponese Masanori Rikishi. Un finale davvero incredibile con Lone Wolf che stava amministrando tranquillamente il vantaggio nei confronti del nipponico e poi ha mollato nelle ultime due riprese. Ascoltiamo il servizio. Ha davvero dell'incredibile ed è clamoroso la sconfitta di Michael Magnesi nel match valevole per la cintura silver WBC dei pesi superpiuma che era praticamente una semifinale per andare a conquistare quella gold. Lone Wolf ha perso per KO tecnico la dodicesima e ultima ripresa contro il giapponese Masanori Rikishi quando mancavano solamente 25 secondi alla conclusione dell'incontro del paradombo litico Leferro che, quasi sicuramente, arrebbe inconorato il pugile allenato da Gesumin Aglioti con i cartellini che lo davano ampiamente in vantaggio al termine dell'ottava ripresa. Tutto questo non lasciava certo presagire ad un colpo di scena da film d'azione. Magnesi, seguito in questo fondamentale appuntamento anche dall'assessore dei servizi sociali Deborah Zacchei dal consigliere comunale Massimo Poschini e dal candidato sindaco Paolo Poletti parte subito a forti ritmi e mette sotto scacco l'avversario dominando il lungo e largo nelle prime quattro riprese come testimonia il primo aggiornamento dei giudici. Successivamente implementa il suo divario apre una vistosa ferita sul volto di Rikishi ma dalla nonna ripresa il dominio del lupo solitario inizia a scricchiolare per un colpo alla tempia che rimingorisce il nipponico mentre la decima è una continua scazzottata a mozzafiato. Magnesi non bada molto al ritorno del pugile ospite e cerca di far divertire il tanto pubblico a corso che lo celebra a pieni polmoni. Ma le energie del civile vecchese da Tozzoni vanno in estrema riserva nel giro di poco tempo e gli ultimi due round diventano uno stoico tentativo di evitare di finire capò Magnesi però a provocare l'avversario ma i minuti finali sono incredibili a colpire solo il giapponese che spedisce per due volte a tappeto lo Wolf in chiarissima difficoltà. Il commentatore tecnico di Le Sport il campionissimo Patrizio Liva urla chiedendo l'immediata conclusione dell'incontro che l'arbitro inizialmente decide di portare avanti ma a 25 secondi del termine non può far altro che interrompere e dare il successo a Richisci. Probabilmente Magnesi avrebbe dovuto provare a temporeggiare invece di innescare in battaglia con l'avversario. Di improvviso il paradomboli è gelato e cade nel silenzio qualche applauso verso i pugili non serve a smorzare la delusione e la labbia per l'occasione mancata Magnesi ha passato una notte in ospedale anche per sottoporsi a una dacca di controllo che prevedrà ancora altri interventi e per valutare la situazione dopo i colpi cassati sul ring non è sicuramente il momento di guardare avanti ad oggi l'unico pensiero per Magnesi deve essere quello di distabilirsi e di rimettersi una volta completato questo percorso si potrà pensare al futuro e proseguiamo con la palla a nuoto smaltita l'euforia per la vittoria contro l'Ancona la Nautilus ha bisogno di un altro grande risultato in Serie A2 domani alle 12 il set di Daniele Lisi sarà a Santa Maria Capoavetere per affrontare la nuova capolista solitaria il Volturno sono 4 i punti di distacco dal terzo posto l'ultimo conduce ai playoff con uno stop le verde-azzurre rischierebbero di piombare a meno 7 a tre giornate dal termine visto che l'Ancona se la dovrà vedere con il fanalino di coda a Gepi sarà ancora assente Moschetti a cui si aggiunge la defezione di un'altra catanese ovvero Oliva proseguiamo con la palla a nuoto lunga trasferta per l'ipertecnica Centuncelle in Serie C domani alle 19 il gruppo di Roberto Barbaro sarà a Frusinone per affrontare la Bellator Frusino i biancorossi non si possono concedere pause per rimanere in scia delle battistrada del Girone al momento la zona playoff dista un solo punto e si potrebbe innescare un duello con l'Antares Latina la differenza è che le Centuncelle avrà quasi tutte partite in trasferta mentre i Pontini quasi tutte in casa sicuri assenti Ballarini per infortunio e Moretti per squalifica mentre Benni ha voluto alzare bandiera bianca per uno Tite punto interrogativo su Caponero che è acciaccato escluso anche di Bella per scelta tecnica mentre rientrano Morachioli e Midio e proseguiamo sempre con la palla a volo domenica romana per la treppi C-Asp nel campionato di Serie C domani alle 16 le Rosso Blu saranno di scena sul parquet del Cali che ha 11 punti di vantaggio in classifica sul gruppo di Giovanni Guidozzi ma che non dovrebbe patire troppo per ottenere la salvezza discorso chiaramente diverso per belli e compagne che nell'ultimo mese sono state irriconoscibili per via dell'addio di Fabene e dei tanti imprevisti con cui hanno dovuto fare il Conti ed ora dovranno giocare sotto pressione visto che i lupi di Marte sono vicini ad un punto di distacco quasi sicuro all'assenza di Coppola che ha rimediato una contusione fortissima al polso in allenamento e infine concludiamo con il rugby c'è la seconda delle tre trasferte consecutive per il CRC nel campionato di Serie A domani alle 14.30 i bianco-rossi saranno al centro onesti per la gara contro la Lazio dovrebbe essere una domenica non proprio facile per i civi tavecchisi in campo contro la capolista che fino ad ora ha fatto 17 successi su 17 la squadra di Damiano Leogreco e Stefano D'Angelo non ha più obiettivi ma vuole scendere in campo per trovare il primo successo della nuova stagione e con questo è tutto termina qui il nostro telegiornale grazie per l'ascolto auguro a tutti un buon fine settimana